Maria Luisa Cortinovis, volontario dell'anno, ma è un premio che va anche come riconoscimento all'impegno di tutta la sua famiglia e di tutta la comunità. Come ha preso questa notizia e dove l'ha presa? Eravamo in giro quel giorno lì e quindi è corso subito ad annunciare a tutti abbiamo vinto, abbiamo vinto, perché il premio noi l'abbiamo impostato non per Maria Luisa Cortinovis, ma per la Truncala, per il San Gabriele. Quindi in questa crociata c'eravamo tutti, tutti quelli che in Ecuador camminano con noi e tutti quelli che qui in Italia pure hanno fatto delle scelte di servizio, di volontariato e prima di tutti la nostra associazione, Acri, quindi è stata la gioia del servizio nostra, della comunità Gabrielina e dell'Acri e di tutti i volontari della Foxi. Per lei concretamente cosa significa cingere il grembiule per i fratelli? Vivere la quotidianità con loro, darsi a loro e permettere a loro di dare. Questa nostra presenza là è una presenza di cammino insieme. I poveri possono dare ad altre poveri, perché c'è sempre chi ha meno di noi. Quindi la proposta della scuola è la proposta che stiamo facendo qui, una proposta di solidarietà per guardare al di fuori della nostra casa, del nostro egoismo, dal nostro io personale per andare qui a meno di noi. La vostra azione è soprattutto prevalentemente in campo educativo, ma agendo in campo educativo ritenete di agire poi anche indirettamente nel sociale, nel miglioramento delle condizioni di vita, nel dare protagonismo che ai poveri. L'ignoranza colpevole, e noi siamo colpevoli dell'ignoranza del fratello e della sorella, dopo l'egoismo è il peggiore peccato dell'umanità. Quindi l'educazione, la formazione è un mezzo sicuro per liberare i popoli oppressi dalla schiavitù di questo peccato dell'ignoranza. Il conoscere aiuta tutti a guardare in faccia l'altro e a non avere paura del potere che domina e che costringe l'altro che non ha e non ha voce ad abbassare la testa. Noi insegniamo tutti, Sergio, io, Diego, la Maria, gli insegnanti della scuola che sono tutti ex alunni, quasi tutti, ad alzare la testa e a guardare in faccia al nemico per vincerlo con la conoscenza. Oggi questa lotta allo sfruttamento, lotta contro le ingiustizie strutturali, come si attua? Noi con l'istruzione e i ragazzi, sono 40 anni che siamo lì, hanno dei posti di responsabilità e il Gabrielino, prima di uscire dalla scuola, fa una promessa, che è la promessa di guardare l'altro. Con la presenza dei giornalisti della famiglia cristiana di TV 2000 abbiamo avuto delle sorprese meravigliose. Siamo andati a scovare degli saluni, alcuni dei quali hanno delle piccole industrie familiari che portano avanti un messaggio che hanno ricevuto. Parlano di uguaglianza, di giustizia, della giusta mercede agli operai. e quindi il nostro lavoro è proprio quello di aiutare questi ragazzi e ragazze ad avere la coscienza che noi possiamo cambiare noi stessi per cambiare poi il mondo gridando le ingiustizie ognuno al proprio posto. A noi tocca nella scuola e a loro tocca dove sono chiamati a vivere, dove scelgono di vivere. Lottare contro le strutture perché è un impegno di tutti noi. Noi alla Troncal con l'educazione, l'ACRI qui a Trento e ognuno di noi con le nostre capacità ed il posto che occupiamo nella responsabilità. Il lavoro che facciamo e le possibilità che dobbiamo cercarci. Non dobbiamo avere paura a dire, a parlare e attaccare il male ed il peccato dell'egoismo. Il Papa ricordava ogni giorno la necessità di trovare il tempo per l'incontro personale con Dio nella preghiera. Se non ci fosse la preghiera che magari a volte si fa molto rapidamente però la preghiera iniziale al mattino dico quello che faccio lo faccio per te e quindi se non c'è questo il nostro lavoro potrebbe valere anche dal punto di vista sociale, non sto dicendo niente, però per noi sarebbe una perdita di tempo. E' indispensabile questo Padre Nostro tutto insieme come comunità educativa, un momento come coppia con i ragazzi quando ci sediamo a tavola, la preghiera per benedire il pane e ricordare chi non è, la preghiera nella cappellina in un momento di sconforto, abbiamo questa cappellina con il Santissimo, ecco lì l'incontro con lui che dà la forza, l'energia e quando tace ci mettiamo un po' così, forti, gli diciamo dove sei, abbiamo bisogno di te e lui magari a volte non risponde subito ma poi parla e parla il cuore, bisogna avere dei momenti di silenzio interiore, di deserto per lasciare dire a lui ciò di cui abbiamo bisogno e tutto poi si affronta diversamente. Per i prossimi 40 anni alla Troncal qual è l'augurio che vi fate reciprocamente? Io penso a volte e dico signore il prossimo anno mi manderai altrove? Ecco, io sono aperta alla vocazione che si scopre ogni giorno. Il domani non lo so, so che oggi è stata una bella giornata, stare qui con voi, poter parlare dell'esperienza, parlare del Signore, della nostra gioia come famiglia e dirvi avanti insieme. Questo è bello. Purtroppo, credo, credo che dovremmo forse finire la storia alla Troncal. Grazie a tutti. Grazie a tutti.